Vincenzo Ilotte, si parte per questo momento veramente importante, tutto il mondo camerale è riunito. Quali sono i messaggi che partono dal capoluogo piemontese? Il messaggio che abbiamo voluto dare questa mattina è un messaggio di pace. Abbiamo voluto tutti quanti alzarci in piedi e fare una riflessione sul significato della pace e sul fatto che è importante che il mondo sappia che il mondo delle imprese richiede la pace. Questo è il primo messaggio che abbiamo voluto mandare oggi. Tanti delegati, alcuni stanno ancora arrivando. Quanti sono i paesi? Ci ricorda qualche numero? Abbiamo più di 110 paesi, quindi abbiamo più della maggioranza dei paesi, abbiamo all'incirca 1500 delegati che arrivano. Abbiamo delegazioni come quella giapponese che conta una settantina di delegati, abbiamo delegazioni come la turca che è una sessantina, gli afghani una cinquantina, quindi abbiamo delegazioni molto importanti e poi delegazioni di piccolissimi paesi che francamente ho dovuto scoprire andando su Google on Earth dove erano localizzati perché non li avevo mai neanche sentiti. Torino è il centro del mondo, Presidente. Di nuovo capitale delle camere di commercio, sì, è una bella soddisfazione.